Io credo che su una cosa siamo tutti d'accordo, cioè nel piangere la scomparsa di sicuramente un signore ed anche un allenatore, però questa è un'opinione, le cui squadre giocavano bene. È morto Ilario Castagnere. Il suo Perugia era una squadra straordinaria. Uno dei pochi allenatori a passare dal Milan all'Inter nella stagione successiva. Mi ricordo uno spareggio Perugia-Torino a Reggio Emilia quando, esultando perché... Si è strappato. No, si ruppe il tendine. Il tendine, sì. Oh, guarda. Era il cosiddetto Perugia dei miracoli, il presidente era Dattoma, credo che il direttore spazio fosse Ramaccioni. Per carità era un calcio diverso, intendiamoci. Però io credo di Ilario Castagnere, che non l'ho mai avuto la fortuna di conoscere, e conserviamo tutti un sorriso e la sensazione di una persona perbene. E quindi lo salutiamo e ringraziamo la famiglia per averci informato di questo.